Già commissario straordinario e direttore generale dell'ASP di Palermo, 55 anni, arrestato questa mattina nell'operazione Sorella Sanità, Antonino Candela aveva il profilo dell'insospettabile, fece arrestare il suo predecessore all'ASP Salvatore Cirignotta per turbativa d'asta nell'appalto sui pannoloni. Ai tempi direttore amministrativo dell'azienda sanitaria, insieme con l'allora capo del provveditorato Fabio Damiani, attuale direttore generale dell'ASP di Trapani, anche lui arrestato stamattina, denunciò Cirignotta alla procura e all'ex assessore alla salute Lucia Borsellino. Entrambi furono premiati dall'ex presidente della regione Rosario Crocetta. Candela prese il posto di Cirignotta alla guida dell'ASP, Damiani fu chiamato a gestire la centrale unica di committenza creata con una norma della finanziaria regionale per recepire le norme nazionali sugli appalti. È fervido auspicio che il suo metodo di gestione, ispirato ai valori di massima legalità, diventi il modello condiviso in ogni settore dell'amministrazione regionale, disse l'ex governatore Crocetta nel 2014. Con l'arrivo di Musumeci e il governo regionale però Candela non viene confermato ai vertici della sanità siciliana, molto vicino a guidare l'ASP di Catania, poi la SEUS, infine l'ASP di Cosenza. Torna con un incarico fondamentale in Sicilia soltanto a marzo di quest'anno con la nomina coordinatore dell'emergenza coronavirus nella regione. Damiani invece, dopo la revoca dell'incarico alla centrale unica di committenza, venne nominato direttore generale dell'ASP di Trapani. Entrambi adesso dovranno difendersi dalle stesse accuse che loro stessi rivolsero a Cirignotta e per le quali stamattina sono finiti in manette, ritenuti al centro di un sistema di appalti e tangenti in sanità.